...e' riuscito, mentre camminavo a fare la sentenza, a incatturare la luce all'altro del pietro, al pietro, dal andando a tutti i pietro sul bordo d'arte. La vostra scopuna, per loro che sono nuovi e che non lo sanno, la vostra scopuna è che, chissà come mai, io sono sempre il presidente. E' come quando qualcuna o qualche due hanno tirato la corsia con tutto il gruppo, se lo sono tirati in atto insieme alla luce. E poi cercavano, poi dalla parte dei pietri, però sono piccole cose che ci servono per mantenere il gruppo.